ciao benvenuti su cartesia oggi vi propongo una ricetta facilissima velocissima ma soprattutto buonissima il gelato kinder cioccolato si prepara davvero in pochissimo tempo e senza latte condensato e senza gelatiera ragazzi provatelo credetemi è una vera e propria delizia vi lascio qui sotto in info box tutti gli ingredienti e se provate il gelato kinder cioccolato lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate prendete un pentolino versate 500 ml di panna zuccherata da montare un pizzico proprio pochissimo di sale e un bicchiere di zucchero bianco amalgamate bene il tutto passiamo ai fornelli con una fiamma bassa sciogliamo così lo zucchero bianco mi raccomando la panna non deve arrivare a bollore lo zucchero si deve sciogliere quindi quando vediamo che lo zucchero si è completamente sciolto possiamo spegnere la fiamma poi prendete una ciotola di vetro e versate la panna all'interno fate intiepidire completamente a temperatura ambiente quando la panna si è intiepidita completamente quindi è tornata nuovamente a temperatura ambiente prendete la vostra ciotola mettete un poco di pellicola e la conservate in frizze per un'ora dopo un'ora riprendete la vostra ciotola dal frizze e lavorate il tutto con le fruste elettriche alla massima velocità sul mio canale troverete tantissime video ricette di gelati gelati con latte condensato senza gelatiera gelati alla frutta gelati con solo due ingredienti quindi visitate anche il mio canale dopo aver montato la nostra panna quando la panna risulta semi montata versate il cacao amaro utilizzo cucchiai abbondanti di cacao amaro verso due cucchiai e vado ad amalgamare bene il tutto inizialmente con il mio cucchiaio e poi lavoro il tutto con le fruste elettriche quindi vado a montare completamente questa volta la mia panna per questa ricetta utilizzo 100 grammi di kinder cioccolato le classiche barrette kinder cioccolato se volete realizzare un gelato ancora più buono vi consiglio di utilizzare due confezioni quindi 200 grammi di kinder cioccolato tagliate il vostro cioccolato a scaglie e versatele all'interno della ciotola con la panna e amalgamate bene il tutto come vedete questa è una confezione di kinder cioccolato però secondo me con due confezioni quindi 200 grammi sarà ancora più buono versate il vostro gelato in una ciotola oppure potete utilizzare il classico contenitore del gelato in plastica e conservate in freezer per almeno 6 ore solitamente io lo preparo sempre la sera prima e quindi lo lascio anche 15 18 24 ore in freezer ragazzi resta sempre cremoso ma soprattutto buonissimo un gelato particolare davvero delizioso che dirvi io spero che questo video vi sia utile mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre video ricette troverete sul mio canale attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video e se volete seguitemi anche su facebook su instagram oppure su tiktok come ricette golose di cartesia vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo tutorial ciao